Ciao a tutti ragazzi, sono Alessandro e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo la riofiabba di Winnie the Pooh insieme a lui. Ciao ragazzi! Questo è il suo libro e questa è la sua minifigura con il miele. Le avventure di Winnie the Pooh Il migliore amico del piccolo Christopher Robin è un orsacchiotto di nome Winnie the Pooh che vive nel bosco dei cento acri. Proprio ora sta suonando il suo orologio e quando l'orologio suona vuol dire che c'è qualcosa di importante da fare. Ma che cosa? Pensa, pensa, pensa! Borbotta Pooh e a un tratto si ricorda Certo, è ora di mangiare! Tutti i vasi di miele però sono vuoti. Pooh allora segue un'ape e si arrampica sull'albero del miele ma non fa in tempo ad allungare la zampa che il ramo su cui è salito si rompe. Pooh cade per terra non si è fatto male per fortuna ma gli è rimasto tanto appetito così pensa, pensa, pensa e gli viene in mente il suo amico Christopher. Lui ha tanti giochi e tra i giochi c'è anche un palloncino. Bene, Pooh si appenderà al pallone e volerò come un'ape sull'albero del miele spiega all'amico. Per non farsi riconoscere dalle api l'orsetto si rotola in una pozza piena di fango così, pensa lui, sembrerà una nuvoletta nera e le api non lo pungeranno. Le api sono furbe non si fanno ingannare quello è un orsetto non una nuvoletta nera lo inseguono ronzando mentre il palloncino si sgonfia portandolo lontano quando le api se ne vanno Pooh ha più appetito di prima però aspetta la tana del coniglio tappo è vicina forse lui ha del buon miele da offrirgli C'è nessuno in casa? Domanda Pooh affacciandosi alla tana No! Risponde una voce da dentro Oh bella se qualcuno risponde vuol dire che c'è ma il fatto è che quando Pooh va a trovare tappo gli sbaffa tutte le provviste per questo il coniglio insiste e risponde che no, no e poi no, non c'è è tutto inutile Pooh curioso e goloso è già entrato tappo può offrirgli qualcosa adesso e alla fine come al solito l'orsetto mangia e mangia e mangia finché tutto sporco di miele saluta tappo e se ne va anzi prova ad andarsene Oh no! Pooh ha mangiato troppo il suo pancino è gonfio come un palloncino così tanto che si è incastrato nell'ingresso della tana e non può più né uscire né entrare tappo spinge a tutta forza ma niente l'orsetto non si smuove nemmeno Christopher Robin riesce a tirarlo fuori di lì possiamo fare solo una cosa gli dice sorridendo aspettare il pancino primo o poi si sgonfierà ma quanto tempo ci vorrà giorni mesi anni chi lo sa dice l'asinello I.O. che non è mai ottimista aspetta e aspetta una mattina tappo riesce a spostare un pochino Pooh con una spinta è arrivata l'ora Christopher Robin oggi è il gran giorno strilla tappo suonando il tamburo delle grandi occasioni Christopher Robin arriva con altri amici Christopher Robin tira Pooh mamma Kangoo tira Christopher Robin e l'asinello I.O. tira Kangoo ma non basta allora tappo prende la rincorsa e dà una testata da dietro come un tappo che si stappa Pooh vola 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 verso l'albero del miele che fortuna si incastra di nuovo ma stavolta il buco è pieno di tanto buon miele dolce e dorato e non ci sono nemmeno le api che sono fuggite spaventate l'orsetto non ha nessuna fretta di uscire adesso proprio no è così felice lì dentro tra pranzetti e spuntini il tempo passa veloce e un bel giorno il vento dell'est si scambia di posto col vento dell'ovest questo causa un bel po' di scompiglio nel bosco dei cento acri il vento è tanto forte che il piccolo maialino Pimpi sta per volare via così Pu lo prende per la sciarpa ma la sciarpa si disfa e Pimpi vola via attaccato a un filo di lana come un aquilone reggeti forte Pimpi grida Pu tenendolo stretto poi il vento solleva anche lui tutti e due volano verso la finestra di Uffa il gufo entrate dice il gufo agli amici aprendo la finestra ho ragione di ritenere che sia una giornata molto ventosa fuori Uffa è un gran tiacchierone e parla parla anche se fuori il vento impazza soffia e risoffia finché l'albero cade sulla casa che peccato esclama Christopher Robin arrivando di corsa con tappo secondo me quando una casa è ridotta in quel modo è ora di cercarne un'altra afferma I.O. ci vorrà un giorno o due ma te ne troverò una nuova così avrò tutto il tempo di raccontarvi di mio zio Girolamo sorride il gufo e ricomincia a chiacchierare chissà forse Uffa sta ancora raccontando quando comincia a fioccare sul bosco nevica è un giorno ideale per divertirsi e Tigro passa a prendere il cangurino Ro Tigro salta sempre di continuo a volte esagera i salti sono la sua passione e anche quella di Ro salto dopo salto i due arrivano sulla cima di un albero ma Tigro ha paura dell'altezza ecco cosa succede quando salti troppo anche Ro che non ha paura non sa davvero come scendere e adesso arrivano tutti mamma Kangu Poo Pimpi e soprattutto Christopher Robin che ha un cappotto bello grande è proprio quello che ci vuole gli amici lo afferrano e lo tengono teso così Ro può saltarci sopra e rimbalzare sano e salvo tra le braccia della mamma Tigro invece ha paura a lui piace saltare in su non in giù così promette che quando scenderà non salterà mai più Tappo è soddisfatto di questa saggia decisione Tigro scende ma se un Tigro non salta che Tigro è? io preferivo il Tigro pieno di salti di prima conferma Ro certo sorride Kangu non sei d'accordo Tappo? in fondo sì anche a Tappo dispiace vedere Tigro così giù di corda questa volta dai la promessa si può sciogliere e non vale più Tigro può ricominciare a saltare quanto vuole anzi saltelleranno tutti insieme sotto la neve che cade lieve sul bosco dei cento acri e se questo video vi è piaciuto lasciate un like e iscriviti al canale giocatore l'ideale ciao ma giocatore nace androttags nnnnnnnnnn Mua!